Era crollato sotto il peso degli anni e delle intemperie a gennaio 2020 e adesso arriva il sì unanime alla mozione regionale per il recupero del poggiare del fienile utilizzato da Roberto Benigni nel film La vita è bella. Quel fienile da cui Dora Nicoletta Braschi cade nelle braccia del suo guido Roberto Benigni che pronuncia il famosissimo buongiorno principessa. Il fienile si trova nel comune di Castiglionfibocchi in provincia di Arezzo ed è di proprietà della Fraternita dei Laici inserito in una proprietà più ampia che comprende anche una leopoldina. A presentare l'atto per il recupero del fienile è stato Marco Casucci della Lega in Commissione Sviluppo Economico presiduta dalla DEM e Daria Buggetti ed ha ricevuto il parere favorevole unanime dopo l'accoglimento dei due emendamenti a firma appunto di Buggetti e Casucci. Nella mozione si chiede alla giunta regionale di supportare l'attività di recupero degli ambienti in coerenza con il progetto di valorizzazione del paesaggio storico della bonifica leopoldina in Valdichiana attraverso sia alla verifica della possibilità di un loro inserimento nell'ambito del progetto di paesaggio le leopoldine in Valdichiana anche al fine di ottenere eventuali finanziamenti pubblici di fonte europea e sia alla verifica della possibilità di accesso al progetto di ristrutturazione e recupero ai canali ordinari dei finanziamenti regionali. Accolgo le modifiche ha detto Casucci che danno concretizzazione al nostro spirito andare incontro a forme di sostegno per il valore simbolico del luogo. Faccio presente anche il progetto di ristrutturazione e recupero con l'accesso ai canali ordinari di finanziamento regionale. Credo sia un bel segnale per questo territorio.